il plesso giuseppe fava è situato lungo il viale monserrato le sette classi della scuola primaria frequentate da 126 alunni sono disposte al pian terreno sono aule fornite di ampie finestre e alcune dotate di lim sullo stesso piano si trova la palestra ristrutturata da poco tempo e i servizi igienici dei bambini divise per fasce d'età al piano superiore si trova l'aula multimediale con 24 postazioni nel plesso operano 17 insegnanti che svolgono l'attività didattica in orario antimeridiano nel corso degli anni gli alunni hanno partecipato con entusiasmo a diversi progetti ed iniziative progetto continuità di educazione stradale di educazione alla legalità educazione alimentare teatro coro sport di classe inoltre gli alunni con i loro insegnanti hanno dato vita a diverse iniziative come la festa dell'accoglienza la festa dell'albero spiagge pulite l'ora del codice giochi matematici la giornata della memoria e molte altre ancora molti ex alunni del plesso fava hanno confermato la stima e la fiducia nei confronti del plesso scrivendo i propri figli nello stesso istituto da loro frequentato il nostro è un plesso ben inserito nel quartiere in cui opera ed è sensibile ai problemi sociali del territorio inserito Grazie a tutti. Grazie a tutti.